I primi passi. Mini guida al codice fiscale. Forse avrai sentito parlare del codice fiscale. All'inizio può sembrare difficile ottenerlo, ma ti mostreremo come potrai avere anche tu il tuo codice fiscale, seguendo alcuni semplici passi. Innanzitutto, cosa è il codice fiscale? È un codice di 16 caratteri, composto da lettere e numeri, che serve ad identificare con precisione l'identità del cittadino, a scopi fiscali e amministrativi. È assolutamente personale e unico. In pratica, non esistono due codici fiscali identici. Ogni persona che vive e lavora in Italia è tenuta ad avere la sua tessera del codice fiscale. A cosa serve il codice fiscale? Il codice fiscale serve in molti casi. Per l'assistenza sanitaria, per aprire un conto in banca, per incassare un pagamento, per ricevere i rimborsi delle tasse, per affittare o acquistare una casa. Sono solo alcuni esempi. Per ottenere il codice fiscale, per prima cosa è necessario avere un permesso di soggiorno, come già saprai, questo documento si ottiene in questura, o anche la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno, unita al passaporto con valido visto di ingresso. A questo punto, devi andare presso uno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate nella tua città. Trovare l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate è molto semplice. Sul sito internet, o anche sugli elenchi telefonici, troverai tutti gli indirizzi per individuare l'ufficio più vicino a te. Quando arrivi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, prenotati per il rilascio del codice fiscale. Ritira e compila il modulo. Il modulo, in diverse lingue, è reperibile anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Quando sarà il tuo turno, potrai consegnare il modulo compilato. Gli impiegati saranno a tua disposizione per qualunque domanda. Il codice fiscale. Un passo per costruire il tuo futuro in Italia. Ecco fatto. Tutto qui. Presto, riceverai a casa la tua tessera personale con il tuo numero di codice fiscale. Semplice, vero? Tutto, riceverai a casa la tua tessera personale.